E Alessia tu sei di, ricordami, scusami, Modena, quindi il prosciutto di Parma. Paolo, che è il prosciutto di Parma? Prosciutto di Modena. Aceto balsamico di Modena. Aceto balsamico. Allora torno da Ludo, a dopo. Vai, vai, a dopo. Allora Ludo, mi dicevi di Modena, dell'aceto balsamico. Non so niente io, dei piatti. Oddio, scusami. Super ignorante. Civiltà Bergamo, Laura in Marketing e Comunicazione. Senza comunicazione. Senza comunicazione.